Abbandona la corsa alle presidenziali iraniane il sindaco di Teheran, Mohamed Bakker Kalibaf, che si presentava per la terza volta in carriera. Per rafforzare il fronte conservatore contro il presidente uscente Hassan Rouhani, Kalibaf ha invitato i sostenitori a votare per Ebrahim Raisi, 56 anni vicino alla guida suprema, l'Ayatollah Ali Khamenei, direttore di una potente fondazione benefica ed ex giudice che nel 1988 ordinò esecuzioni di massa di dissidenti e di militanti di sinistra. Entrambi hanno accusato il governo di aver abbandonato i poveri. Raisi propone di creare 6 milioni di posti di lavoro, se eletto. Alle presidenziali del 19 maggio Raisi rappresenta adesso il principale rivale del presidente uscente, il moderato Hassan Rouhani, a favore del quale dovrebbe ritirarsi dalla corsa Eshag Jahanguili, vicepresidente dell'Iran.